quali effetti inattesi può generare la mancanza uno si trova in contatti sociali deprivati per la pandemia ed ecco che fa scoperte inaudite prima di tutto a tempo per riflettere all'inizio ha un effetto di vertigine si sente spaesato poi è forse proprio quello spaesamento che diventa produttivo del resto se non ci si spaesa è difficile riconoscere il paesaggio non lo sappiamo non lo sappiamo non lo sappiamo ma è probabile che quando lo tiri per un momento fuori che il pesce si accorge dell'acqua